Milano non è Gotham City insomma, come diceva ieri? Sì, di questo ne sono convinto, io questa descrizione della Milano che ha il suo stress, che ha paura, che è malatissima, non la vedo, anche perché mi chiedo ma se è malata Milano le altre città italiane e anche europee cosa devono dire? È una città che come tutte esce da questa pandemia con le sue sofferenze, ma non la vedo una malata grave, per cui io di questo sono assolutamente certo, dopodiché se la campagna è impostata su questo saranno probabilmente i cittadini a dire se ci vedono come dei malati o se hanno fiducia invece in un'altra proposta che invece è una proposta di vita.